Musica Resilienza e cooperazione Questo è il titolo della convention di Conf Cooperative Basilicata che si svolgerà dal 27 al 29 aprile prossimi nel villaggio Giardini d'Oriente di Novasiri Una tra i giorni di dibattiti e partecipazione che darà corpo a proposte della cooperazione lucana nei settori del welfare, dell'ambiente e turismo, della rigenerazione urbana e dell'agricoltura Ne parliamo per un'anticipazione col presidente di Conf Cooperative Basilicata, Pino Bruno Ben ritrovato presidente e grazie di aver accettato il nostro invito Che cosa accadrà in questi tre giorni a partire da giovedì? Anzitutto un momento di partecipazione, di condivisione, un momento per le nostre cooperative, per i nostri soci di essere insieme E insieme di coprogettare e di immaginare quali possono essere le proposte operative che la nostra regione può esprimere in termini di opportunità Opportunità da un punto di vista dello sviluppo economico ma opportunità da un punto di vista dello sviluppo anche occupazionale e soprattutto giovanile E' un modo diverso con il quale intendiamo ritrovarci e soprattutto discutere insieme su quelli che possono essere i temi di sviluppo dei prossimi anni Temi che poi ovviamente saranno le proposte operative che andremo a concretizzare Saranno elaborate delle vere e proprie strategie di sviluppo per ogni settore? Sì, strategie, pensieri che partiranno ovviamente da un'analisi e da una lettura di quello che il territorio esprime in termini di potenzialità Ma soprattutto sarà una modalità di coprogettazione perché quello che noi andremo a dirci in questi tre giorni lo condivideremo con i nostri stakeholder Quindi non solo la cooperazione ma partner istituzionali, partner sindacali, partner datoriali Coloro che intendono partecipare con noi in questa modalità coprogettata E' una modalità che intendiamo condividere sin da questa prima iniziativa ma portarla avanti Perché riteniamo che strutturare, studiare, immaginare insieme delle prospettive, farle già dall'origine insieme Quindi anche dal basso se vogliamo, consente anche di poter raggiungere prima dei risultati E essere anche propositivi rispetto all'istituzione politica che dovrà, speriamo ovviamente, condividere con noi o potrà condividere con noi questi momenti Come si articoleranno queste tre giornate? Il giovedì è il momento di apertura della convention, un momento di apertura che vedrà innanzitutto un fuori programma Definiamolo così ma di fatto abbiamo all'interno della convention il Consiglio nazionale di fede e abitazione Che è il settore nazionale nostro di conf cooperative che celebrerà lì il Consiglio nazionale E quindi già ci sarà un momento intorno alle 16 ma la parte di apertura è prevista per le 18.30 L'apertura dove narreremo quello che accadrà nei tre giorni e ci ritroveremo in un momento anche conviviale insieme con tutti quanti i soci, con le famiglie E anche con uno spettacolo che sarà realizzato da una delle nostre cooperative, questo il giovedì Il venerdì è il momento cuore, clou, dove quattro panel di discussione saranno avviati contemporaneamente Uno su welfare e sull'interazione sociosanitaria, l'altro sull'agricoltura e sull'agricoltura sociale L'altro ancora sulla rigenerazione urbana e sul riutilizzo dei centri storici E l'altro ancora sull'ambiente e sul turismo In ognuno di questi panel che andranno avanti dalle 9.30 fino alle 18 ci sarà il momento di discussione e di condivisione Ovviamente ogni gruppo dovrà produrre un elaborato finale che poi sarà ripreso in una plenaria alle 18.30 Dove ospicchiamo la presenza di Monsignor Cagliazzo E in quell'occasione tracceremo anche in modo orizzontale le opportunità per i nostri giovani Perché Conf Cooperative, partner del progetto Policoro Che ne condivide i valori e anche lo spirito con il quale portiamo avanti le attività Proviamo anche a immaginare delle opportunità per i ragazzi, i nostri giovani della nostra regione Basilicata Ecco quindi questo accadrà al termine della giornata di venerdì Dove ogni gruppo di lavoro elaborerà delle proposte concrete che saranno poi discusse con tutti Ogni gruppo di lavoro sarà costituito non solo dai vostri soci ma anche da referenti nazionali Allora noi ogni gruppo di lavoro l'abbiamo costituito in modo abbastanza eterogenio Proprio per poter avere una lettura differente rispetto a quelli che sono gli oggetti che abbiamo i temi da discutere Partiamo innanzitutto dai presidenti dei settori perché ogni gruppo è coordinato dal presidente del nostro settore Per cui Welfare è coordinato dalla nostra presidente Lina Bonomo L'abitazione da Rocco Fiorino, l'agricoltura da Andrea Badursi, il turismo e ambiente da Cosimo Pompeo Che sono i quattro responsabili presidenti dei singoli settori Insieme a loro avremo i quattro assessori Per cui avremo la Franconi su Welfare, Braia per quanto riguarda agricoltura Pietrantuono sull'ambiente turismo e Benedetto sull'infrastruttura e rigenerazione urbana Ma in più avremo anche i sindacati, quindi CGL e CISL che saranno con noi Avremo la portavoce nazionale del forum del terzo settore Claudio Afiaschi Avremo il presidente nazionale del settore abitativo Alessandro Maggioni E avremo gli altri partner che con noi stanno condividendo non solo questo percorso quotidiano Di presenza sul territorio con le nostre attività delle cooperative Ma anche coloro che vorranno dare un contributo attivo a questa modalità È una modalità aperta, assolutamente aperta Tant'è che abbiamo invitato non solo le istituzioni e gli altri stakeholder datoriali Confindustria, Lega Coop e AGC Ovviamente il tema della cooperazione per noi è centrale Perché partiamo con una proposta sì di Conf Cooperativa Ma che la estendiamo a tutto il movimento cooperativo Per cui anche nel panel di discussione avremo i nostri colleghi Delle altre due centrali cooperative AGC e Lega Coop Con i quali stiamo condividendo questo percorso dell'alleanza delle cooperative Ci saranno circa 400 persone in questa tre giorni E come lei diceva molto eterogeneo insomma il parterre di ospiti e di partecipanti Può essere questa tre giorni l'occasione di un rilancio della stagione di cooperazione Lucana? Allora la cooperazione diciamo che è sempre stata presente nella nostra regione ma non solo Molte volte non ci rendiamo conto di quanto la cooperazione, di quanto le persone operano sul nostro territorio Perché per lo più lo fanno sui servizi social assistenziali, per lo più lo fanno sulla produzione agricola Ma sono cooperative che quotidianamente con grande passione e motivazione operano per la nostra regione Il punto qual è? Far emergere quello che accade, quello che la cooperazione dà alla nostra regione Ma soprattutto anche in una modalità se vogliamo più innovativa Quello che può fare in più la cooperazione Lo pensiamo in una stagione di, non dico di rilancio, ma di slancio ulteriore della cooperazione che può fare la nostra regione Perché dobbiamo sempre tener conto anche i dati che ora la nostra cooperazione basicata esprime E sono occupati come numero di aggregati e sono fatturati in termini di sviluppo economico E sono opportunità per la nostra regione Il punto qual è? Quello di poter dare centralità a quello che si fa sino ad oggi Ma soprattutto alla modalità nuova che andiamo ad esprimere rispetto a nuove opportunità lavorative E nuove opportunità di sviluppo Per cui tutti i settori saranno coinvolti C'è un pensiero, un filo conduttore ovviamente Noi affrontiamo i panel in modo settoriale, definiamolo così Ma non è questa la nostra logica La nostra logica è quella di integrarli Perché se dovessimo parlare di turismo oggi Il turismo a me fa venire in mente non solo il turismo in senso stretto Ma anche i servizi a corrido della parte turistica Ma anche le dirizze abitative e la rigenerazione urbana Per quanto riguarda il turismo Per cui già con il turismo L'agroalimentare, la promozione gastronomica Per cui già è tutto Allora dobbiamo abituarci a pensare a tutto tondo rispetto a quelle che sono opportunità E non esclusivamente rispetto a quello che è un settore Che esprime una determinata appartenenza produttiva Qualche esempio di best practice di cooperazione in Basilicata? Da un punto di vista, allora, ne abbiamo diverse Certamente se dovessimo partire dal settore del welfare La cooperazione sociale esprime la presenza in tutta la nostra regione Cioè sostanzialmente le cooperative sociali Sono coloro che erogano quotidianamente tutti i servizi Agli anziani, ai minori, ai disabili I centri di unica, si in nido E diciamo che copriamo più dell'80% insieme alle altre due centrali cooperative dei servizi Poi abbiamo le cooperative dell'agroalimentare Per cui abbiamo le eccellenze del vulture per la parte vitivinicola Abbiamo le eccellenze per quanto riguarda la parte oliaria Abbiamo le eccellenze anche sull'agricoltura primaria Per quanto riguarda le produzioni dell'ortofrutta nel metà pontino Poi abbiamo i servizi perché anche lì abbiamo grandi interessanti cooperative Che sviluppano attività nell'ambito delle costruzioni Nell'ambito della vigilanza Nell'ambito delle attività energetiche Dove abbiamo anche la vendita del gas e dell'energia elettrica E poi abbiamo un'altra parte che riguarda il turismo Dove anche lì abbiamo delle belle esperienze emergenti tantissime Dalla provincia di Potenza sino a Matera Che cominciano ad emergere nella gestione turistica Quindi non solo nell'accoglienza Ma anche nella gestione dei siti culturali Ad esempio anche le cooperative che nascono con il progetto Policoro Oltre l'arte piuttosto che altre cooperative Che esprimono grandi eccellenze Sono per noi un motivo di vanto da un lato Ma soprattutto perché sono nate da giovani che hanno condiviso un percorso Avremo ad esempio nella tre giorni Anche cooperative che gestiscono il planetario ad Anzi Per dirne una Che è una bella cooperativa Una bella realtà Che è per noi un'eccellenza E che nasce dal progetto Policoro Nella convention di tre giorni a Novasiri Si parlerà di quello che è stato fatto ieri Di quello che si farà oggi Ma soprattutto di quello che si potrà fare domani Il domani è quello che verrà fuori dal venerdì Cioè la discussione del venerdì I panel di lavoro saranno centrati su quello che noi vorremmo domani Per cui non è Pino Bruno Non è verticalmente definito quello che noi immaginiamo a proporre Lo definiamo e lo immaginiamo in modo orizzontale e condiviso E quello è quello che noi narreremo sabato mattina Come visione prospettica del domani E che io avrò la responsabilità di narrare alla platea La presenza del presidente nostro nazionale Maurizio Gardini E del presidente della giunta regionale Buon lavoro e grazie a Pino Bruno Presidente di Conf Cooperative Basilicata TRM Network seguirà con diversi reportage Spazi di approfondimento La tre giorni a Novasiri A Giardini d'Oriente Dal 27 al 29 aprile Grazie a Pino Bruno Grazie a voi